Vasta operazione della Polizia di Pescara che ha eseguito il sequestro preventivo di due depositi e di circa otto quintali di materiale esplodente di illecita catalogazione e manifattura insieme a circa 25.000 articoli pirotecnici non di libera vendita. Gli agenti della squadra amministrativa della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale coadiuvata dal personale delle unità cinofile e del nucleo artificiali della Questura sono intervenuti in numerosi punti vendita di Pescara e Provincia allo scopo di individuare e sequestrare materiale pericoloso. I controlli sono stati estesi anche ai principali hub di stoccaggio e distribuzione dove con l'ausilio dei cani anti-esplosivo e degli artificieri muniti anche di scanner a raggi X è stato possibile individuare pacchi confezionati in maniera anonima all'interno dei quali sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni chilogrammi di fuochi illegali. Il questore Luigi Liguori Non a caso vedete al mio fianco il dirigente della divisione di Polizia Amministrativa il dottore Alfredo Luzzi mi va a fare pure una brutta figura perché è più alto di me e quindi più prestante e quindi lo ringrazio, è solo uno scherzo questo, ringrazio lui, ringrazio la divisione ringrazio i cinofili, ringrazio i ragazzi, gli artificieri che sono qua dietro che sono dei professionisti di altissimo livello e sono riusciti a venire a capo, è un'attività che è iniziata all'inizio del mese è un'attività che è ancora in corso, è che sequestrare a Pescara oltre 8 quintali 8 quintali, non 80 kg sto parlando, di fuochi e abbiamo anche accertato che parte di questo materiale è stato già disperso è stato già venduto e si tratta di materiale classificato di materiale che per la cui detenzione occorre la maggiorità è un'autorizzazione del questore, occorrerebbe per la pericolosità questo ci preoccupa moltissimo, è un invito ai cittadini che dovessero aver comprato inconsapevolmente materiale che è classificato poco più che materiale scenico o neanche botti di Natale invece bisogna stare attenti perché si tratta di materiale molto pericoloso quindi andremo a fondo, abbiamo individuato il luogo di produzione abbiamo una località della comunità europea che ha fornito in qualche maniera la possibilità di classificare in maniera diversa questo materiale in realtà abbiamo del materiale pericoloso messo in delle confessioni e classificato come se fossero artifici pirotecnici giocattoli sostanzialmente il questore ha poi tracciato un bilancio di fine anno dell'attività in corso nel 2021 tra i reati più odiosi i reati sono tutti odiosi ma quelli che riguardano la violenza di genere in particolare quindi in danno delle persone fragili che sono sostanzialmente stabili e qualcuno anche in diminuzione e i reati poi i reati predatori quelli che toccano l'economia delle persone e toccano spesso oltre che l'economia anche la dignità delle persone abbiamo una certa stabilità dei reati di furto anche se qualche statistica ha parlato di aumenti abbiamo una situazione sotto controllo sotto il profilo dell'ordine pubblico abbiamo un sacco di esercizi commerciali controllati circa 500 esercizi commerciali controllati a fronte di un centenario dell'anno scorso e naturalmente controlli serrati per il rispetto delle norme anti-covid e naturalmente controlli serrati